Ci salveranno i cuori. Due donne camminano per strada, si tengono per mano col sorriso. L'una è la mamma e l'altra è la figlia. Un disabile allunga il passo, cammina girando il piede e l'anca. Gli occhi arrivano prima del suo passo. Si guarda intorno a cercare qualche cuore. Il secondo libro di Pietro Ravallese è non aver paura che a nascere ci si mette due o tre volte. Perché questo titolo? E cosa vuol dire? Perché noi quando nasciamo siamo creature che devono necessariamente rinascere, come diceva Pablo Neruda. E si rinasce molto spesso quando la vita ci mette in condizione, in delle strettoie che ci obbligano a prendere consapevolezza di come stiamo vivendo. E' quello il momento in cui la vita ci obbliga ad essere fedeli a se stessi, fedeli a quello che noi desideriamo, a quello che noi abbiamo sempre cercato. Quell'infinito, quell'oltre che non siamo stati capaci di raggiungere e che raggiungiamo nel momento in cui decidiamo di spingere anche nel dolore per rinascere. Ci salverà l'andare in giro per strada a cercare i cuori delle genti, i cuori dispersi, i cuori tristi, i cuori allegri, i cuori in ansia, i cuori generosi, i cuori malati, i cuori giovani che cercano pietà, i cuori che sperano, i cuori sorridenti. La poesia è ancora una buona cura per l'anima, per lo spirito? Assolutamente sì. Si rinasce proprio quando si ha uno sguardo poetico sulla vita. Si rinasce attraverso uno sguardo capace di meravigliarsi, capace di meravigliarsi tutti i giorni, capace di appoggiare i propri occhi su un filo d'erba, su un albero, su un tramonto, sugli occhi di una persona e prima ancora che sul successo, sulla capacità, la competenza, la produttività. È in questo modo che noi ci lasciamo abbracciare dalla vita. Ci salverà l'andare in giro per strada a cercare i cuori.